Coffin Works a Birmingham è stata fondata nel 1894 quando i proprietari si sono resi conto che c'erano più soldi nelle berche negli armadietti un museo della bar a Birmingham ha fatto luce sulla sua affascinante storia mentre cerca di espandere la sua squadra. Coffin Works ai margini del quartiere dei gioiellieri della città è uno dei musei più macabri del paese, ma il suo staff insiste sul fatto che è un ottimo modo per parlare e conoscere la morte. Fondata nel 1894, inizialmente concentrandosi sugli accessori degli armadi prima di rendersi conto che c'era più denaro da trovare nelle berche. Newman Brothers ha fornito mobili e articoli in ottone, come maniglie, piatti e sudari per le berche di re, regine e primi ministri, tra cui Giorgio V, la regina Mary, la principessa Diana e la regina madre. La ragione per cui questa azienda era così importante è perché sono state classificate come Rolls Royce degli accessori per berre e hanno fornito i becchini reali per la maggior parte del ventesimo secolo, afferma Sarah Hayes, manager di Coffin Works. Come Brummie che ama i vecchi edifici, è il lavoro dei miei sogni. La gente potrebbe pensare che sia strano. Ma questo è un luogo che racconta la storia di un importante commercio cittadino. Così come le storie delle persone che lavoravano qui, come la defunta Joyce Green, l'ultima proprietaria, che ha dedicato la sua vita all'azienda e ha combattuto una campagna per preservare l'edificio e trasformarlo in un museo, ciò che ha tratto di più Hayes è la qualità di Mary Celeste. Alla fine degli anni 90, l'azienda era in fase di liquidazione e un pomeriggio. Green e il team decisero finalmente di chiudere gli attrezzi e chiudere le porte. Il risultato è una capsula del tempo splendidamente restaurata preservata dal Birmingham Conservation Trust. È come se il personale fosse uscito un pomeriggio e non fosse tornato. Non è minimamente morboso. Puoi sentire l'odore del legno, del metallo e della storia. In alcune stanze è come tornare indietro nel periodo vittoriano. In altre è come una scena di Peaky Blinders. E poi alcune sono molto bloccate negli anni 60, dice Sara.